E ciao a tutti ragazzi, qui Endergar che parla e bentornati in questo nuovissimo video di Conquest dove oggi cercheremo magari di finire il gioco in una maniera un po' più diversa Ah, Dust Bowl Quanto vorrei attaccare questo punto? Allora, capite, se io adesso lascio che loro vadano, cosa accade? Ah beh no, ma tanto rinforzano qui... no no, ok Perché se io adesso finisse il turno, cosa accadrebbe? Loro sposterebbero la loro unità qua, le altre le metterebbero qui e questi probabilmente arriverebbero addirittura qua Perché qua hanno la road tile che gli permette di fare un salto in più Quindi un mega attacco proprio su tunnel e potrebbero attaccarci di nuovo, isola anche, iceland Quindi pensiamo un po' perché naturalmente io adesso potrei non fare niente Potrei tranquillamente starmene fermo, facciamo solo battaglie su tunnel e vinciamo Però non è quello che voglio fare, voglio fare delle battaglie diverse, no? Voglio fare l'auto resolve Però dai, giochiamo E... che modalità è? Spero skirmish Battle, battle di notte Interessanti, questa mappa ammetto che è molto interessante Sono felice, dai, sono felice Vi metterò il visore appena possibile Ok, ho il visore E... non abbiamo veicoli, seriamente? Ah, vabbè Ok, siamo un po' nella cacca allora Però... ehi, siamo 300 contro 100, eh Quindi... c'è anche da dir quello Allora, sì, beh, loro hanno già gli aerei Ragazzi, io dico solo che gli aerei costano 20 unità di... di tutto praticamente Quindi loro in due turni hanno più di 20, naturalmente, punti scienza Ovvio, ovvio Questa è una cosa che dovrebbero togliere di Conquest Lo modificheranno, ne sono quasi del tutto sicuro Perché hanno in mente di fare la modalità custom di Conquest Quindi se non lo modificheranno, i giocatori lo faranno Perché non ha senso che... tu non puoi fare niente Ma gli altri hanno già tutto Cioè... è un po' sbilanciato Ehm... infatti io... uso sempre il dagger Ehm... proprio perché... guardate che strage ho fatto Non mi ha manco dato le kill perché probabilmente non sono morti Però comunque guardate cosa ho fatto Ehm... ehoh Ehoh, ehoh, e sto sparando Oh, e sei caduto Ok, è morto Ehm... ecco, è un po' sbilanciato Per quello uso il dagger, ragazzi Perché se no... hanno preso checkpoint Ma... puristamente cosa me ne frega a me di checkpoint? Perché se loro non hanno i carri Cosa che sarebbero già venuti ad attaccarci Cioè ma quello doveva colpirmi per fare... no... Col 40 di danno Che non serve a nulla Però doveva farmelo Va bene Ok Se lo vuoi te Ecco, quelli penso siano nemici Una pattuglietta di nemici Cioè c'è, mancati tutti, no? Ho preso me Che ho 40 di danno così a caso Vabbè L'ho... Oh, che paura Oh, che paura Toglietemi Vado via Eh, non ci arrivo io là Loro hanno l'automira Ma io no Oh, la madonna Ok, sì, sono nemici Perché io purtroppo Non riesco a distinguere molto Se sono nemici Perché col visore notturno Ragazzi, non si vede Penso che Avrete il mio stesso problema Perché vi avrei messo le skin Quelle apposite In maniera che io potessi riconoscervi Tramite le skin Ma purtroppo Sponchi Non si può fare Madonna Cato che l'ho fatto 9-0 Ci sta Ci sta Era Ray Trace Il mio alleato Eh, oh Non potevo vederlo Sì, ma non è che tipo Tu puoi darmi Un paio di colpi Prima di respawnare Ehi Colpi Grazie Voi siete alleati Sì, mi avreste già sparato Ma siamo già in aeroporto Madonna Eh, sì Fuochi d'artificio Ma siamo già in aeroporto Oggi questi hanno investito in In zero carri Ma tutto in aerei Praticamente Eeeh Quelli sono nemici Ok, quelli sono nemici Va bene, va bene Ora ho capito che sono nemici No, mettendo il Garrett Magari spawniamo qua Ah, ma noi ce l'abbiamo La chip Però perché all'inizio Non è spawnata Ah, perché parte da Da oasi Ok Spiega tutto Allora, madonna che luce Oh Oh, abbiamo messo i faretti Oh, ci stiamo evolvendo Bene, mi piace Questa cosa Mi piace Eeeh Ci stanno Abbastanza arando Se posso dirlo Però Non è anche troppissimo Nel senso che comunque Noi rimaniamo pur sempre In vantaggio costante Quindi Chi è che sparava? Con i due Due cecchini Vabbè Io non prendo mai I cecchini in conquest Perché Eeeh Porta a sventura Prende i cecchini Eeeh Visto che la gente usa i cecchini Anche per combattere da vicino Non si mette fermo A sparare col cecchino No Combatte da vicino Quindi rischio solo Di perdere più battaglie Sprendo Più fucili d'assalto Che loro tanto uccidono Anche a 20 metri Con fucili d'assalto Dio 20 metri Ci sta però 100 metri Un po' Di meno Credete che sono stato ucciso Da migliaia di metri Con fucili d'assalto D'altro non vi ricordo Sono bot Hanno la mira automatica Ci sta Ok Facciamo che Se uno mi spara Gli sparo anch'io Così non devo neanche togliere Stiamo conquistando? Sì Ok beh Se conquistiamo questo In teoria Cioè Ce l'abbiamo fatta Ah ma cavolo Ma loro hanno altri Due punti? Beh vado a checkpoint Cavolo Prendere checkpoint E una barzelletta Li ariamo Cioè Guardate quanta gente perdono Adesso stavo già prendendo checkpoint Madonna Andiamo in radar base Come cavolo si chiama Ma vai Madonna Colpo di cecchino Sto Io Un po' di gente in squadra Me la prendo Perché Saranno due persone Ma mi difendono bene Ok L'importante è non perdere Neanche un battaglione Se perdiamo Anche solo un battaglione Può essere un problema Ma Ce la si può gestire Oddio In questa mappa no Però O a me non mi interessa Perdere A me interessa fare Due gameplay di conquest Un po' differente Al solito Che non sia quindi Il solito Tunnel e basta Perché Io dico questo Perché Non fate altre Partite su conquest E attaccavano solo tunnel Andatevi a riguardare I primi due episodi In cui per l'appunto Le battaglie erano basate Su tunnel E E per l'appunto Anche altre battaglie Che ho fatto su conquest Erano solo su tunnel Solo Su tunnel Cosa abbiamo fatto Su town Non era già nostro Stavano Prendendo town E se ci attaccano Dalle retrovie Noi non ce le accorgiamo Ok Quello penso sia morto Stia rotolando Da un monte Ecco quello no Oh Non sono morti No Hai certo Tu Tu Ok Spero che l'abbiano ucciso No Sì 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 No non è vero Si è rialzato È immortale Ok Aspetta 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 Ah ok Ok Ah è vero che qua non c'è il rallenti Maledizione Ok abbiamo vinto Ok posso stare fermo Tanto perderanno le unità In automatico Quindi Che bello Yeah Fuochi d'artificio Ok Eh ok Abbiamo vinto anche questa battaglia Signori Senza perdere neanche un battaglione Teoria Quindi Li abbiamo veramente distrutti Però Ti va a dire che erano solo in cento Eh però comunque Insomma Non è male Eh E Voilà Ok Adesso Adesso niente Adesso devo finire il turno Non posso muovermi Non posso reclutare E Non mi attaccate ora Attaccate dopo Oh Che noia Vabbè È che loro adesso Non gli aerei Ci arano adesso Però Se ci distrugono No Se anche fosse Noi possiamo difenderci Possiamo poi attaccargli questo Che sarebbe un'altra battaglia Tunnel Lo so Però Non è un problema Vabbè Cerchiamo di fargli Il più danni possibile Poi Se perdiamo Non mi interessa Ah partiamo noi All'aeroporto Uh uh Interessante Di nuovo di notte Solito Garrett Lo potevo prendere altro Eh Basta Perché non c'è il C4 Ragazzi Con il C4 Io farei un disastro Perché Prenderei Il primo veicolo Che mi capita E andrei così No Li butterei tutti i C4 Sopra E li lancierei Sui nemici Ok quindi 3 2 1 Metti questo E partiamo Allora La prima cosa Beh stiamo già andando A prendere il checkpoint Potremmo andare a prendere Le miniere Che non è male Quindi andrò A prendere quel punto Però Non è una cavola Allora hanno già perso Un'unità Morta Investita Perché O ha fatto un ictus Perché Come avevano perso Un'unità Fin dall'inizio Non ho ne ho idea E Quest'era C'è neanche sparati Un kamikaze Si sta buttando Su le montagne Signori Ok Allora Il dagger Sarà proprio La nostra Piccola potenza Ora come ora Oh la madonna Cos'era Quell'arma Sì Morite Maccati Fantastico Vedete cosa Vuol dire Non usare Il dagger Come arma Vera Scusatemi Io tolgo un attimo Il visore Da fastidio anche a me Ma Devo capire quali sono nemici Perché Alimenti qua Se avevamo la possibilità Di vincere Qua la perdiamo Completamente Allora Io non so perché Sono così pessimista In questa mappa Però effettivamente È una mappa Che ho sempre odiato Cioè È bellissima per gli aerei Facevo le big battaglie aeree Grazie Dovevate proprio darmi Quel colpo malefico Però È Veramente Difficile Sarà che io Non mi sono mai impegnato A giocarla Seriamente Giocavo sempre Con gli aerei Ma alla fine Morivo Morto Magissimo Stiantato Però Comunque Io non so Se questi Se io stia sparando A dei nemici Cioè Pensate Qual è il mio problema Ora Avessi Ralenti Avremmo già vinto Tutto In due giorni Per carità Le battaglie Duravano di più però Ok Io sto facendo una strage Siamo in una situazione Di pareggio Quasi totale Qua prendere i punti Ragazzi Conterà tantissimo Eh Cosa Purtroppo I corpi Mettono una luce Come ben Potrete notare Che Dà abbastanza fastidio A me che sto sparando No ma Hanno conquistato il punto Perché No Ne abbiamo conquistato noi Oh oh Stai calmo Allora Calmi tutti Come se Oh la madonna Ok Non so perché lo vedo Con queste righe Però ok Niente male Potrei fare un battle plan Ma io so già Che se lo faccio Perdiamo Perché Avviene sempre Ok Poi un battle plan Dovete sapere che Se Non lo gestite Per tutta la partita Ditegli Addio al battle plan Perché Se tenete un singolo Bad Madonna che male Un singolo battle plan Anche se i punti Sono stati conquistati Seguiranno sempre quelli Quindi Beh Potete capire Qual è il Dire Ma questi Questi Ma cosa pensavano Di fare Sono arrivati così Proprio Della serie Oggi vi spacco io Oddio 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 Non capisco Quali sono nemici Va bene Guardate che luce Mettono i personaggi Cioè Hanno un faro Dentro di loro Hanno preso Checkpoint Sono riusciti No 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 Scusate Adesso Questo battle plan Lo dovevo fare Ok Difendete questo E andate a prendere Quel punto maledico Perché Checkpoint È fondamentale Ora come ora Cioè ma questi Stanno andando Indisturbati Non li abbiamo Manco sparati Ma siete seri Uccideteli Ma io non commento Vabbè Ok Scusate se ogni tanto Lo vorrò togliere Questo maledetto visore Ma ve l'ho già detto Com'è La situa Ok Ho paura che questa battaglia Non finirà mai Perché durerà Veramente tantissimo E Vabbè Al massimo Una finisco off camera Tanto non è che Ci sia molto Da registrare Alla fine Ehm Boom Fare l'auto Resolva adesso Sarebbe stato utile Che dite Ecco io non ho colpi Quindi tra un po' Dovrò andare Di pistola e bazooka Bene Forse se ne prendo Un po' da loro Sarebbe meglio No Quello è scomparso Vabbè Un paio di colpi Comunque È sempre bene prenderli Abbiamo un paio Dei nostri Che stanno già Combattendo Per prendere Questo punto Ok Che è l'oasi Ok Uccisi Ehm Però è vero Loro hanno lo spawn qui Quindi se continuano A spawnare qua Uh Ho fatto un incidente Si sono schiantati In un incidente Fantastico Fantastico Ehm Chi sono quelli Chi sono quelli Mi sparo Nel dubbio Ok Sono nemici Sì vabbè Ma sei scemo Ti ho sparato E tu Torni nel quad Cosa fa Cosa fai Ho un colpo E lo userò bene Non è vero Ok Pistoletta Muori Ok Ucciso L'ho veramente Ucciso Con una pistoletta Beh io mi butto Uccidetemi Non ho colpi Oh io Cercherò di fare Più kill possibili Con questa pistoletta Haha Buttato giù E non ti aspetta Il tuo compare Che salga Perché Ci perdete tutti e due Tanto E sei salito Di nuovo Cioè Maledetto È scappato così Vabbè che me frega Io ti conquisto il punto Haha Ok l'ho mancato Ovviamente Mi hanno perso un battaglione Che bello Festeggiamo Che dite Festeggiamo Sembra giusto Ma Sono da solo Ma che tristezza Ragazzi Ma che tristezza Assurda Sono da solo In un punto Fermo Morirò Probabilmente morirò Perché Si riprenderanno Il loro punto Immagino Vabbè GG Prendiamoci Boh Quel quad sta esplodendo Prendiamoci questo Ok Oh è messo bene È messo bene È bene Ok possiamo partire Per un viaggio Senza Precedenti E andare così Stiamo perdendo Di punti Neanche tanto In realtà Quindi io adesso Andrò a prendermi Quel punto A cui sto mirando Bene Che sono le miniere Scusate Se non mi ricordo I punti Però Ora Vi ho detto Non è che ci abbia Ricordo tantissimo Però un raggio Per se fossero i colpi Di un aereo Sto quad ha già perso vita Con Non mi sono neanche Schiantato Penso Eppure ha perso vita Ok Ora Io vado proprio Così no Cattivissimo Perché non ho colpi Di nulla Beh infatti Sono morto Ma lo immaginavo Però comunque Però comunque Anche se sono morto Potrebbe essere un vantaggio Anche se stiamo perdendo male Per via dei punti Che non abbiamo punti Ok qua potrebbe Servire un battle plan Ok Però Eh eh Ma se lo facciamo così Tutti Dovete seguire Il battle plan Perché adesso Non ha senso Che Nessuno Vada A prendere A prendere Checkpoint Ok Perché Altrimenti Come faremo Oh c'è un codino Un codino Signori Quel codino La Continua a pingarlo In questa maniera Forse Non despauna Perché capita Anche una volta Despaunavano Adesso Urco schifo Una squadra Signori Così Me lo dici così Una squadra nemica Eeeh Fantastico Hanno anche rotto il quad Bene Mmm che fastidio Che mi togli il Il visore Allora adesso Adesso io sto così Ok Eccolo Eccolo Eccoli Togliti Ti prego Che ti sparo Ehehe State parlando Di Colui che ha usato Il grizzer Per anni In questo gioco Eeeh Infatti Eccoli I miei alleati Che corrono Da soli Ok Come al solito Pingo Perché Voglio Pingu E vedete Che con un battle plan Serio Adesso Abbiamo preso Adesso Li dico di Mantenere quello E di andare Attaccare questo Ok In questa maniera Forse Se andiamo avanti In maniera tranquilla Così Senza problemi Forse Forse Ok Ce la prendiamo Scialla Tranquillissima Ok Già Questo Quota Ha perso Vita Ha perso Altra Fantastic Beh ora Ne perderà Molta Penso Per fare Un bel Volo Ah Era tubular Cavolo Eh Vabbè Te l'ho già detto No Senti Vieni qua Amico mio Già che ci sei Sali Ok E andiamo in due Va là Che i due Forse ci difendiamo meglio Ho preso Uno spavento assurdo E il mio amico Penso sia morto Sì Ok Perfetto Fatemi un attimo Togliere il visore Perché Così Posso sparare A questo maledetto Snake Un serpente Ok Dovrei avere Il mio kit Yes No ti prego No ti prego Tu non mi hai visto Tu non mi hai visto Morto No Ok Orsi Eh Sì Quanta gente Ok Ora sto sparando Proprio a caso Perché quella luce Mi sta Quella luce Mi sta accettando Intanto io posso stare qua Con il mio kit Non mi fanno nulla Dovremmo aver perso Sì Un battaglione Guarda Ci sta Quella luce Quella luce Quella luce Ok ragazzi Beh io direi che Posso morire Ok io direi che posso morire Finisco col video Perché Se no andiamo veramente Oltre col tempo E Beh Nel prossimo video Vedrete come È proseguita la partita Eh Anche se comunque abbiamo Tatta roba Però Comunque Vedremo Quindi Ci vediamo alla prossima Iscrivetevi Lasciate like Condividete Ciao Ciao